Attenzione al sociale e alle categorie di lavoratori più colpite dalla crisi generata dal Covid per programmarne la ripresa e allontanare lo spettro di infiltrazioni criminali. E' questa la prima sfida su cui è pronto a lavorare il nuovo prefetto di Pesaro e Urbino, il dottor Tommaso Ricciardi. Classe 1957, nato a Caserta, già prefetto della provincia trapanese, Ricciardi, che prende il posto di Vittorio Lapolla, si è ufficialmente insegliato nella mattinata di ieri, mentre nel primo incontro pubblico che ha avuto luogo oggi ha evidenziato i primi impegni della nuova agenda di lavoro. L'augurio e l'impegno è che i ristoratori come i bar, come le palestre, come i teatri, i cinema, tutti quelli che hanno avuto il danno più grande da questa pandemia possano riprendere e riprendere nel miglior modo possibile. Dobbiamo cercare con tutte le nostre forze e con una sinergia tra le varie istituzioni, perché io amo lavorare molto di squadra. Dobbiamo cercare di mettere queste attività, questi soggetti in condizioni di ripartire. Ovviamente la parte preponderante, la parte più importante, la sta facendo il governo, che ha licenziato finalmente il piano ristori. e quindi fare in modo che queste persone possano ripartire con gli aiuti dello Stato e non incappare in problematiche che sono legate purtroppo a fenomeni di delinquenza o meglio, più che delinquenza, criminalità come estorsione, usura e quant'altro. In vista dell'inizio della stagione estiva, il nuovo prefetto Ricciardi ha poi ricordato l'importanza di non abbassare la guardia rispetto alle misure di sicurezza volte a limitare il contagio da Covid-19. Siamo memori dell'ultima, della precedente estate, che sì, è stata un'estate da liberi tutti, ma poi già a settembre abbiamo incominciato a pagare, purtroppo, lo scotto di questa eccessiva euforia. Vero è che rispetto all'estate scorsa siamo già messi meglio e quindi l'estate ce la dobbiamo godere, ma con responsabilità, d'intesa con le forze dell'ordine, con le forze di polizia, ma anche con il sindaco. Abbiamo deciso di fare in modo che la guardia resti alta. Confermato anche l'impegno di portare avanti il progetto di valorizzazione culturale destinato a Palazzo Ducale, sede della Prefettura, che grazie alla firma di un protocollo avvenuta nelle scorse settimane è stato inserito all'interno del circuito museale della città pesarese. Colgo ancora una volta l'occasione per ringraziare il collega Vittorio Lapolla e questa iniziativa che lui ha inaugurato sicuramente io la perseguirò. Anche migliorandola, allargando magari la platea dei beneficiari di questo bellissimo palazzo, perché credo che a partire dai pesaresi tutti dobbiamo essere consapevoli delle ricchezze culturali, artistiche di questa provincia, di questo territorio. Il primo impatto è stato meraviglioso, una bellissima città. Spero di, compatibilmente con gli impegni che in ogni prefettura ci sono, insomma quindi in molteplici attività nelle quali ci dobbiamo misurare ogni giorno e problemi, spero di godermi anche il territorio.